La Giunta Musumeci riscrive la manovra 2020, una finanziaria snella con soli 26 articoli, approntata per l'emergenza e per attivare misure di contrasto agli effetti economici negativi del coronavirus in Sicilia. Il Governo Musumeci l'ha già inviata all'Assemblea regionale siciliana per l'avvio dell'ITER di approvazione. Le risorse provengono da una rimodulazione dei fondi extra-regionali dal POC 2014-2020. L'obiettivo di Palazzo Orleans è affrontare la cosiddetta fase 1, quella dell'emergenza attuale e la successiva fase 2, piano per la ricostruzione economica, incedendo sostanzialmente in quattro settori, enti locali, famiglie povere, operatori economici, scuole e povertà educativa. Istituito un fondo perequativo degli enti locali, ai comuni, per far fronte alla minore entrate a causa della sospensione o per i mancati versamenti da parte dei contribuenti, andranno 200 milioni di euro. Al mondo della scuola vengono destinate 120 milioni di euro, serviranno per evitare un ulteriore incremento della dispersione scolastica e per garantire i livelli occupazionali dei lavoratori dei comparti dell'istruzione e della formazione professionale, ma anche per favorire l'adozione di strategie finalizzate al potenziamento della scuola digitale e al corretto e più ampio esercizio del diritto allo studio. Il Governo regionale ha previsto di incrementare il budget delle destinare comuni per l'assistenza alimentare delle famiglie più disagiate, portando le risorse a 200 milioni di euro. A queste si aggiungono altri 100 milioni di euro che serviranno a istituire presso l'IRFIS uno speciale fondo per il finanziamento al consumo per le famiglie. Verranno concessi prestiti, in parte a fondo perduto, fino a 5 mila euro, interessi zero. Per quanto concerne il sostegno alle imprese, sono previsti due tipi di intervento. Sovvenzione e finanziamenti per il credito d'esercizio, che assicurino liquidità alle aziende. Verranno concessi prestiti, in parte a fondo perduto, fino a 15 mila euro, interessi zero. 10 milioni in particolare sono destinati a sostenere l'editoria siciliana e le agenzie di stampa, anche online. Altri 100 milioni di euro serviranno a creare, presso la CRIAS, uno speciale fondo per la ripresa artigiani. Anche per loro, prestiti fino a 15 mila euro senza interessi. Identica possibilità per le cooperative. 50 milioni di euro a disposizione attraverso l'IRCAC, per finanziamenti fino a 50 mila euro. Interventi anche per il settore del turismo e il comparto della pesca. Verranno sospese, inoltre, tutte le tasse di concessione governativa di competenza regionale. I tributi per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, i canini per la concessione dei maniali marittime e i ruoli istituzionali e rigui dei consorsi di bonifica dell'ultimo triennio.